Ciao, sono Enrico, ho 25 anni, sono di Verona ma ho un appoggio su Milano e su Roma. Nella vita faccio l'attore, mi sono diplomato in un'accademia cinematografica e ho frequentato diversi workshop internazionali. Sono un pianista laureato in conservatorio, suono diverse musiche tra pop, jazz, classica e anche le colonne sonore dei film. Pratico diversi sport, tra cui le arti marziali, kung fu, kickboxing e MMA. Mi piace molto nuotare, correre e andare in bicicletta, ho esperienza di equitazione, sono arrivato al trotto. Vi faccio vedere le mie mani, i miei profili. Grazie, vi mostro la mia figura intera.